Trasporto pubblico locale, infrastrutture, uscita ovest, sanità e ruolo di Ancona nella strategia macro-regionale adriatico-ionica sono i temi sui quali si sono confrontate la giunta delle Marche e quella del capoluogo. Un faccia a faccia concreto, hanno sottolineato sia il governatore Spacca che il sindaco Mancinelli al termine. Tanto concreto che alcuni risultati si sono raggiunti, come il riadeguamento del Fondo per il Trasporto Pubblico Locale con il quale evitare un piano di tagli. Il fondo è stato riadeguato per tutta la regione, non soltanto per la città di Ancona, ma per l'urbano di Ancona questo significa un passo importante, positivo. Sintonia a Regione Comune anche sul collegamento porto-autostrada, ovvero l'uscita ovest. È necessario che ci siano risposte chiare e precise da parte del Ministero entro i prossimi 15-20 giorni. La necessità di rilanciare nei confronti del governo l'estrema urgenza dell'uscita dal porto di Ancona verso la 14, cosa che peraltro avevamo già fatto nell'incontro con il Presidente del Consiglio, sottoponendo nel protocollo dell'urgenza questa come una delle maggiori urgenze, e la nomina della nuova autorità portuale. E poi la sanità, con la richiesta del capoluogo, del mantenimento dei servizi ospedalieri in città, contemplando il potenziamento di torrette in attesa del nuovo IRCA e ospedale di rete. Palazzo del Popolo si è poi impegnato per le varianti urbanistiche ai contenitori ex lancisi, salesi e poliambulatorio del Viale della Vittoria. Palazzo Raffaello invece sbloccherà la realizzazione della RSA all'ex Umberto I. Abbiamo avuto garanzie rispetto all'avanzamento delle varianti di piano regolatore, da cui deriveranno le risorse finanziarie per sostenere la sanità della città e della nostra regione. C'è stato riconfermato per l'apertura effettiva, e non solo per la costruzione muraria, ma per l'apertura effettiva della residenza sanitaria assistita all'ex Umberto I.